Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi pomeriggio in centro sono previste tre manifestazioni, in particolare due cortei, il primo da Piazza della Repubblica sino ai Fori Imperiali passando per Via Cavour, il secondo da Porta Maggiore sino a Porta Pia passando anche davanti alla Sapienza. Sempre oggi pomeriggio è in programma anche una manifestazione a Piazza Cavour. Le chiusure e le deviazioni per bus e tram sono su